Buongiorno amici, come vedete ho la mascherina, mi trovo però nel cortile di casa mia e sono qui per presentarvi in questo periodo di quarantena un'operazione che noi abbiamo realizzato nella nostra app Lugari Pocket a disposizione di tutti coloro che hanno intenzione di intrattenersi con dei video di caccia, frutto della nostra 25 annale produzione di video di caccia. All'interno di esse troverete un'infinità di video gratuiti e una produzione e un repertorio veramente eccezionale di oltre 1500 clip che potete vedere 24 ore al giorno con un minimo contributo di tesseramento. Ciao a tutti, sono Alessandro Lugari e mi trovo nel giardino di casa. Siamo in quarantena e tante persone si stanno informando come funziona la nostra app o il nostro portale Lugari Pocket. La nostra è una app che si può scaricare sia da Google Play che da App Store, ma è anche un portale, quindi un sito, illugaripocket.com. Sia l'app che il portale offrono la possibilità di visionare tantissimi filmati, molti di questi sono assolutamente gratuiti, altri invece sono a pagamento. L'iscrizione è gratuita, obbligatoria ma gratuita. Una volta effettuata l'iscrizione voi potrete avere accesso a tantissimi filmati nonché anche ai nostri ultimi filmati, quelli che poi compaiono anche nei DVD. La differenza è che li potrete visionare sul vostro smartphone, sul vostro computer di casa o sulla vostra smart tv e soprattutto li potrete visionare tutti in alta definizione, in full HD. Ciao a tutti, sono Alberto Lugari, sono anch'io come voi qua nel mio cortile di casa in questo periodo di quarantena. Sono qua per informarvi che abbiamo realizzato alcuni video dei corti, cioè video molto molto brevi, dove illustreremo come potersi iscrivere e usufruire gratuitamente della nostra applicazione Lugari Pocket. Quindi è una cosa molto semplice, basterà visionare questi video tutorial per poter entrare nella nostra applicazione. Ci tengo a informarvi che ci sarà comunque un ampio contenuto di video gratuiti e alcuni a pagamento che potrete acquistare solo se ne avrete voglia e comunque ci saranno tutte le spiegazioni in questi tutorial. Per il momento vi saluto, un augurio a tutti di rivederci sui terreni di caccia, non so bene quali saranno i tempi ma sono sicuro che finita la quarantena la nostra passione è se non calerà, se non sarà proprio nell'immediato futuro ma sicuramente ci rivedremo tutti a caccia. Un saluto a tutti.